Le aziende sostengono lo sport e talvolta lo sport entra in azienda. È il caso delle due costole della famiglia Italservice, quella di Calcio 5 e del Loreto Basket Pesaro, che questa mattina hanno fatto visita alla Decor Leader di Cappone, impresa specializzata nella produzione di bordi decorati da anni a fianco delle imprese agonistiche sportive dell'Italservice. Sono circa tre anni che partecipiamo e siamo soddisfatti del ritorno e anche della visibilità che abbiamo dell'azienda attraverso i social, attraverso Sky, attraverso tutto quello che ci va intorno. Per entrambe le compagini la visita arriva in un ottimo momento. Entrambe le squadre sono sospinte dal vento in poppa di tre vittorie consecutive che per il Calcio 5 concidono anche con la sosta del campionato, utile a ricaricare le pile. Credo che quando abbiamo perso la partita con il Sala Consilina ci siamo riuniti in spogliatoio, insieme allo staff e al mister, ci siamo detti che se vogliamo arrivare a pre-off dobbiamo dare un po' più di intensità, cambiare qualcosa. Quello che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto le ultime tre partite, tre vittorie, nove punti importantissimi. Tre successi, ma per Murilo arriva uno stop forzato. Sì, credo 20-25 giorni, non magari una cosa molto molto grave, come all'inizio, il venerdì dopo la partita pensavamo, dopo le ecografie, gli esami che ho fatto, credo starà fuori per un po'. Per fortuna c'è la pausa adesso, di una settimana, quindi mi aiuterà, però farò di tutto per tornare più forte di prima. Il 30 marzo si riparte da Mantova. Avendo bisogno di questi tre punti per la salvezza, loro verranno molto agguerriti. Lì il campo è difficilissimo, ci ho già giocato, è dura. Ci aspetteremo sicuramente una battaglia durissima, ma il mister insieme ai giocatori sicuramente saremo preparati per arrivare lì con testa per provare a prendere questi tre punti, che per noi è molto molto importante in questo momento del campionato. Mantova contrassegnerà il via rush finale con le ultime quattro gare di regular season. Prima cosa dobbiamo entrare, poi se dopo che entriamo vediamo che possiamo arrivare magari più in alto, proveremo, perché tutti sanno che poi il playoff è un altro campionato, è un'altra cosa. Possiamo lottare anche con l'Olimbus che è il primo, proveremo se prendiamo loro, ma con qualsiasi squadra lì si può competere e vediamo come va. Guarda i playoff anche l'Ital Service Loretto Pesaro dopo che la vittoria con Palestrina ha contrassegnato la terza vittoria di fila di fase play-in con ampio scarto in un periodo caratterizzato da una svolta a livello di continuità di prestazione. C'è stata una svolta più che altro mentale che poi appunto si è vista anche dal punto di vista fisico e abbiamo alzato l'intensità sia dell'allenamento che poi in partita e questo sicuramente ci ha portato benefici e i risultati si stanno vedendo. Adesso il nostro obiettivo è cercare di vincere tutte le partite e dare il massimo e alla fine di queste otto partite vedere dove siamo arrivati senza fare troppi calcoli dobbiamo provare a dare noi il massimo e poi vedere cosa succede nei playoff. Obiettivi ambiziosi sostenuti dalla fiducia riposta dagli sponsor. È importante insomma che si arrivi a fare dei buoni risultati come ci sono stati nel calcio a cinque anni fa e vedo che adesso stiamo tornando ad avere dei risultati buoni. Loretto Basket è anche una nuova iniziativa che Lorenzo ha intrapreso e che seguiamo volentieri e anche personalmente quando è possibile si va a vedere le partite al palazzo soprattutto calcio a cinque, seguo un po' più calcio a cinque del Loretto Basket quindi è importante che i risultati vengano e poi l'importante è che lo sport venga sostenuto in qualche modo perché c'è bisogno delle iniziative private per tenere su e sostenere squadre che comunque anche da un punto di vista economico penso che abbiano un certo impegno.